Maria Chiara Carrozza Io sono Maria Chiara Carrozza, sono originaria di Pisa e sono qui a Siena per parlarvi delle ricerche, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e della sua storia. E mi sono molto contenta di essere qui in Toscana perché la Toscana ha una grandissima tradizione di ricerca scientifica, ha degli Atenei molto importanti, però il mio messaggio di oggi è proprio che noi non conosciamo la storia dei nostri Atenei, la storia della ricerca che noi svolgiamo nei nostri Atenei, nel Consiglio Nazionale delle Ricerche, nei nostri istituti, e non conosciamo i personaggi che hanno fatto oggi, che hanno portato oggi la ricerca a quella che è, che hanno costruito l'ossatura del nostro sistema della formazione della ricerca. E mi sono ispirata a una professoressa che si chiama Giuseppina Aliverti, una accademica dei lincei che è morta nel 1982, è nata a Somma Lombarda ed è morta a Napoli e ha avuto una storia che è particolarmente interessante. La Giuseppina Aliverti, pensate, qui ci sono i documenti che abbiamo trovato dentro l'archivio del CNR, è stata incaricata nel 1940 di dirigere un osservatorio geofisico di Pavia. Perché è importante questo? Prima di tutto è importante perché è una donna che ha raggiunto i massimi livelli anche della ricerca e della ricerca per lo Stato, ma perché in quegli anni si costruì quello che poi oggi è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il CNR, cioè gli istituti di ricerca che svolgono non soltanto ricerca, ma anche una funzione molto importante, il monitoraggio del territorio. E in effetti in quegli anni, e qui si vede proprio il decreto con cui fu istituito l'osservatorio e fu dato proprio a lei, Giuseppina Aliverti. Perché è importante la sua storia? Perché lei era una fisica che ha studiato fisica e poi gradualmente ha cominciato a studiare la terra, l'osservazione della terra, la geologia, e ha fatto tante cose importanti che oggi hanno prodotto e producono quello che oggi svolge il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Qui è un altro esempio che ho portato, che è molto interessante, che potete vedere nel documento, perché il Consiglio di Presidenza del CNR del 1957 ha destinato uno stanziamento importante per costruire e partecipare alla partecipazione italiana all'anno della geofisica internazionale. Qui vedete la foto, sono tutti uomini, ci sono solo due donne, e una di queste era Giuseppina Aliverti, che in effetti era già a quei tempi molto importanti e quindi subito nel dopoguerra ha costruito quello che oggi noi siamo. E vi farò vedere perché. La sua storia si incrocia con quella di un altro personaggio molto importante del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che è il suo primo presidente, che fondò nel 1923 il Consiglio Nazionale delle Ricerche dall'Accademia dei Lincei. Perché è importante la sua storia? Perché lui fu il primo presidente e fu anche uno degli accademici italiani che non aderì al partito fascista e in conseguenza della sua non adesione perse praticamente tutto e fu anche un po' cancellato dalla storia. Tanto è vero che molte persone pensano che il primo presidente del CNR sia stato Guglielmo Marconi. In realtà Guglielmo Marconi è stato il secondo presidente. E cosa fece Vito Volterra? Non solo fondò il CNR con una idea importante, cioè che il paese doveva avere un Consiglio Nazionale delle Ricerche perché le ricerche erano importanti per l'avanzamento scientifico e per il futuro del paese, per il suo futuro anche in campo industriale. Ma fece un'altra cosa che è molto importante. fondò gli istituti talassografici che, per esempio, io ho visitato molto di recente, oggi sono confluiti negli istituti del mare del CNR a Messina, a Messina davanti al canale di Messina, cioè il punto dove c'è l'istituto del CNR che oggi si chiama istituto di ricerca del mare ed è di fronte al canale, si vedono proprio confluire le correnti, quindi un punto fondamentale in cui cominciò a registrare il mare, le correnti, il tempo, tutte le condizioni fisiche e geofisiche che erano fondamentali, che poi hanno costituito le serie storiche che oggi usiamo per capire gli effetti del cambiamento climatico. E quindi, proprio nel 1917, questo bollettino bimestrale, fondò questi istituti talassografici, uno è a Venezia, anche a Venezia, nella laguna di Venezia, c'è un istituto di ricerca sul mare che oggi, insomma, ha raccolto quelle steredità. Ma se noi oggi possiamo andare nel passato e utilizzare le serie storiche delle misure del mare che ci permettono di capire oggi cosa è successo e come si è evoluto l'impatto del cambiamento climatico, è perché qualcuno a quei tempi ha pensato dal niente di fondare gli istituti talassografici. E perché è questo importante? Perché oggi noi abbiamo un Consiglio nazionale delle ricerche con 8.700 ricercatori su tutto il territorio italiano. E quello che è bello da mostrare è che la ricerca che noi svolgiamo si svolge sul campo, proprio letteralmente sul campo, per studiare le nuove coltivazioni, oppure si svolge ai poli. I poli sono gli eredi degli istituti talassografici di allora, perché le registrazioni che noi svolgiamo ai poli sono, in un certo senso, i rivelatori dello stato climatico del pianeta. Quindi perché l'Italia va ai poli? Uno dice, sembra una cosa assurda, in realtà ai poli le basi che noi abbiamo sono le basi dove si studia l'impatto del cambiamento climatico e lo stato del clima. E perché questa missione del CNR, cioè del Consiglio nazionale delle ricerche, così come degli altri enti di ricerca, gli enti di ricerca hanno una funzione molto particolare, che è quella dell'avanzamento scientifico, ma anche quella di svolgere una missione a servizio del Paese. L'osservatorio geofisico di Pavia, che dirigeva Giuseppina Liberti, serviva proprio anche a questo. E oggi noi abbiamo un'articolazione territoriale, vedete, 227 sedi e 88 istituti. Torniamo un attimo a Giuseppina Liberti. Cosa fece? Aveva studiato fisica, ma gettò le basi di quella che oggi è la geofisica, la geologia moderna, è quello che noi oggi facciamo. Qui vedete alcuni degli esempi di come si è interessata all'applicazione della scienza, alla descrizione del mondo e all'applicazione della scienza per descrivere le situazioni geofisiche e per sviluppare strumenti che permettessero una cosa fondamentale che noi oggi dobbiamo capire. Misurare per comprendere. Perché per comprendere, per esempio, il cambiamento climatico, se noi non misuriamo e non sviluppiamo infrastrutture che effettuino queste misure, registrino i dati e li mettano a disposizione della comunità, non riusciamo a modellare e a predire quello che succederà. Guardate cosa ha fatto. Nel 1970 ha scritto un trattato sull'utilizzo dei satelliti di seconda generazione per l'osservazione della Terra. Quindi aveva capito nel 1970 quale poteva essere l'utilizzo dei satelliti. Poi aveva capito l'integrazione fra oceano e atmosfera e quindi si era interessata del mare e di oceanografia. E poi aveva studiato la glaciologia, che è quindi il precursore delle scienze polari di oggi. Sapete che oggi noi abbiamo dei ricercatori in Antartide, anche all'Artico, con delle basi. Qui vedete quante basi ci sono a livello internazionale in Antartide. Ora ci sono dei ricercatori, anche il direttore dell'Istituto di Scienze Polari, Carlo Barbante, in questo momento è in Antartide, nelle campagne, che servono proprio come rivelatori dello stato del pianeta. E una tradizione del CNR che proprio Giuseppina Liberti nel 1961 aveva seguito, questa è una nave Bannock donata dagli Stati Uniti al CNR, che fece 15 campagne di registrazione nel Martirreno per fondare quegli trattati che anche lei aveva studiato. E vedete che oggi noi siamo in trattativa, speriamo di riuscirci, perché non è un'impresa semplice, perché dall'Australia ci vogliono donare la nave Falkor, che è una nave oceanografica, ma come vedete le tradizioni, lo sapete bene qui a Siena, non si inventano. Cioè la storia di oggi e quindi le campagne oceanografiche che noi oggi progettiamo vengono dalle campagne oceanografiche del passato. E quello di cui oggi ci interessiamo è la biodiversità. Il mare, quindi le campagne che noi progettiamo di fare, se riusciremo a avere la nostra nuova nave Falkor, sarà studiare e monitorare la ricchezza della materia vivente nel mare e in tutto l'universo e nelle nostre città, nelle nostri boschi, nelle nostre foreste, sulle montagne, perché è il termometro e la misura dello stato di salute del pianeta. Se la biodiversità diminuisce, vuol dire che abbiamo, come dire, combinato qualcosa di sbagliato. E per farlo, che cosa serve? Perché servono tanti soldi per la ricerca? E apparentemente la ricerca consuma investimenti perché servono le infrastrutture di ricerca. Come aveva pensato Giuseppino Aliverti nel 1970, noi abbiamo bisogno di misuratori e rivelatori che misurino l'emissione di CO2 nell'atmosfera. Un esempio è l'antenna che noi abbiamo a Capodimonte, nel giardino della reggia di Capodimonte, e noi abbiamo posizionato un sistema che è un rivelatore della CO2 nell'atmosfera per capire la concentrazione di CO2. O abbiamo, come vedete, tante infrastrutture internazionali. A che cosa servono? Il sogno dei ricercatori di oggi è quello di costruire queste infrastrutture, misurare tanti aerosol nell'area, misurare il mare, la biodiversità, misurare e monitorare i parametri fisici, chimici, biochimici, biologici, rilevanti, mettere in rete i dati di queste misure e renderli accessibili a tutta la comunità scientifica, ma anche ai cittadini. La novità di oggi e l'evoluzione scientifica comporta quello che noi chiamiamo open science, che significa accesso alla scienza, e citizen science, cioè gli scienziati, i cittadini e comunque chiunque, deve poter accedere alle informazioni e ai parametri che misurano, per esempio, lo stato del pianeta, ai modelli che i ricercatori applicano, ed essere convinti e coinvolti, perché se non cambiamo il comportamento di tutti, non riusciremo mai a mitigare l'impatto del cambiamento climatico, a tornare indietro e a vivere la nostra transizione, perché noi oggi abbiamo un grande obiettivo, un grande sogno, quello della transizione ecologica. La transizione ecologica dipende da una parte, dalla nostra capacità di trasformare la chimica da lineare in circolare, cioè riutilizzare i materiali, riutilizzare i processi, cambiare il verso del consumo indefinito di risorse e cambiarlo in modo sostanziale, quindi cambiare il nostro approccio, inserire nelle equazioni che descrivono la realtà anche i parametri che riguardano il consumo di energia, riguardano quanto noi sprechiamo, quanto noi immettiamo inquinanti nel mondo, e quindi è un modo diverso di descrivere la realtà che i nostri figli, i nostri nipoti, comunque dovranno cominciare a cambiare, quindi il comportamento nostro di tutti noi deve cambiare per vivere questa transizione e dobbiamo anche noi ricercatori imparare a comunicare, a mettere in rete i dati che noi otteniamo e che noi riveliamo, perché sono un patrimonio di tutti, noi viviamo con le tasse che voi pagate, con le tasse dei cittadini, ed è giusto che noi rendicontiamo e raccontiamo e spieghiamo al mondo quello che noi facciamo. Quindi infine, per tornare alla mia amata Giuseppina Liverti, che per me è un grande modello, cosa abbiamo imparato da lei? Prima di tutto abbiamo imparato che si può studiare una materia e poi sviluppare un settore scientifico, un'attività, un progetto che attraversi i settori della scienza ed entri in altri ambiti. Lei è partita dalla fisica, ha fatto la geofisica, ha fatto la glaciologia, l'oceanografia, ha diretto istituti, ha lavorato per il bene del suo paese, pensava di essere al servizio del suo paese, ha organizzato campagne nei mari, ma abbiamo anche imparato un altro aspetto che è molto importante nella scienza di oggi, con cui voglio concludere questo mio breve intervento, che oggi esiste una consapevolezza fondamentale in ricercatori, che nei ricercatori, prima di tutto, che il nostro compito è aiutare e lavorare fra discipline differenti, da quelle più delle scienze dure fino a quelle umanistiche, per trasformare la ricerca in cultura, perché soltanto quando diventa cultura può cambiare i comportamenti e far partecipare i cittadini a questa grande rivoluzione scientifica che noi dobbiamo vivere, questa grande rivoluzione industriale, che per la prima volta nella storia dell'uomo è una rivoluzione industriale che vuole essere sostenibile e quindi non devastare l'ambiente, ma essere compatibile con l'ambiente. Penso che sia il grande sogno di oggi, che è talmente condiviso da sembrare quasi ovvio, ma invece comporta davvero un cambio culturale profondo. Grazie.